Ciao ragazzi, oggi video diverso e solito perché stai un po' tema di disabilità, ma in realtà questa volta il protagonista è Andrea Perché tantissime volte fate domande a tutti e due, però rivolte più a lui, del com'è vivere con una persona con disabilità Come ti sei adattato, cosa sono le cose che davvero sono cambiate Cioè la gente a volte vuole sempre sapere davvero quanto mi aiuti nella vita, quanto c'è bisogno di te E quante sono tutte quelle piccole attenzioni che tu hai imparato a fare per aiutare la mia indipendenza Moltissime, mille No dai, seriamente Allora diciamo che tu dopo dieci anni ti lamenti ancora del fatto che non ho delle attenzioni che dovrei avere Tipo mettere le ciabatte in punti che non sono in mezzo alla casa Le ciabatte e le scarpe sei peggio tu Comunque, allora diciamo che ci sono sicuramente delle attenzioni che bisogna attuare Sono in realtà regole di vita quotidiana normale tipo non lasciare le cose in mezzo ai piedi Perché quando io col piedino le scaccio via Giulia in carrozzina non ci passa più Ok, ma tanto tu non hai neanche la carrozzina, è inutile che indichi invece battellino, c'è la carrozzina Mettere la carrozzina vicino alla persona che è la carrozzina Quello l'ho dimenticato un paio di volte C'è stato un lungo periodo che la dimenticava tendenzialmente sempre No, è successo un paio di volte O per esempio Principalmente il disordine che non ti permette di entrare nel Non aggiungere alcuni punti della stanza O della casa, tipo la lavanderia O della casa Abbiamo già pensato quando ci siamo trasferiti qui Gli spazi che hai sicuramente utilizzato anche tu Tipo alcuni spazi della cucina E alcuni spazi che sicuramente non avresti utilizzato Tipo i pensili in alto E già aveva impostato un pochettino diciamo la vita Quindi tutto ciò che finisce là sicuramente Giulia non lo può prendere da sola Le lenzuola le mettiamo in alto Perché tanto se facciamo il letto o lo faccio io o lo facciamo insieme No, Andrea Però esatto Giulia non cambierà mai le lenzuola da sola Quindi vanno già in alto E delle accortezze Allora Le accortezze che Andrea ha sviluppato nei miei confronti O perché vivi con una persona con disabilità Ci sono delle cose che tendenzialmente ormai fai praticamente tu Cioè banalmente quando andiamo a fare la spesa Se io magari vado a fare la spesa piccola tra virgolette Ma è super raro che io compri l'acqua Quelle non sono accortezze Quelle secondo me dopo un po' naturalmente ci si divide i compiti Anche in base a questo Nel senso che appunto c'è da fare la spesa grande O andiamo a farla insieme o vado a farla io Perché è inutile che Giulia va a fare la spesa E magari riesce a mettere tutto nel carrello ma poi non torna più a casa No, ad esempio una cosa che facciamo abbastanza nuova Dill'ultimo anno A volte io vado a fare la spesa, la inizio a fare ma lo chiamo quando ho finito Per aiutarmi a prenderla Oppure ci sono alcuni lavori in casa che ne so che faccio io Tipo stendere banalmente che potrebbe farlo lei Ma in effetti a lei costa fatica che ne so 10 A me costa fatica 3 Non ha tanto senso farlo fare a lei E ci si divide le cose Quando magari invece altre cose Tipo mettere a posto il bagno che ne so Lo fa a lei perché tutti i prodotti Sono tutti all'altezza lavandino Barra armadietto Sì poi ci sono tante cose che sono cambiate negli anni Cioè io mi ricordo che all'inizio io non prestavo mai la spira polvere Perché avevo una spira polvere pesantissima Poi adesso la spira polvere è cambiata e super leggera Cioè passo tendenzialmente più la spira polvere La lavanderia è un luogo nero per me Ogni coppia penso si suddivide i lavori in casa Se non lo fate rivedete la vostra relazione Sì in base a quello che piace Il tempo che si ha a disposizione Noi semplicemente l'abbiamo diviso anche in base a Disabilità barra fatica o meno È vero però ci sono comunque delle cose Che secondo me sono proprio legate tantissimo Alle mie limitazioni motorie Quindi la domanda è tipo cosa Non farei nel caso tu non fossi in carrozzina per esempio Sì mandamera di roba Prendermi i vestiti dall'alto è una roba che Tendenzialmente di nuovo non è che io non posso fare O la cosa per apprendere i vestiti dall'alto Ma a me prendere un vestito dall'alto Magari costa dieci minuti e tantissima rabbia No è vero dipende È presente la mamma adesso vuoi provare? Eh sì perché adesso è strutturato male Vabbè comunque costa quelle tantissima rabbia E lui costa due minuti Quindi chiamo Andrea Stendere è la stessa cosa Tu trovi questa vita più pesante? No perché è diventata la nostra routine Tra l'inizio sì No perché è già stata impostata così Però in effetti se uno dovesse cambiare all'improvviso Se uno non l'ha mai steso in vita sua Perché lo faceva sempre la moglie in piedi E si trova poi a dover stendere tutti i giorni Uno fa un po' meno lavatrici Due Due a quelli in effetti potrebbe cambiare gli equilibri Quello ci credo Perché ti trovi a fare delle cose Che magari prima neanche ti immaginavi di fare Ok? Hai mai approfittato della mia disabilità? Quando andiamo in macchina passo nella corsia dei tram Perché si può fare Ogni tanto se non ci sei Dico passo lo stesso nella corsia dei tram Eh lo so Sono un birichino Sono un birichino Lo so Io vi dico una cosa per cui ne approfitto spesso A volte dico che non capisco bene L'idea ti ho detto non farlo E tu l'hai fatto perché io non sento me Ah no Beh così c'entra Quello è proprio approfittare della disabilità di Giulia Invece sì Non c'entra Invece sì Non tagliate questa porta nel vino Cioè se litighiamo Andrea fa le scale e se ne va No Andrea non lo farebbe mai Perché questo gli costerebbe le gambe No è Giulia che se ne va Apri di tutto E poi in casa non abbiamo le scale Non posso salire su un tavolo Dice no mi puoi prendere qua su Fatto leva sulla disabilità O profittato in maniera negativa Diriti no 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 Ti sembra vergognato della mia disabilità No Lui all'inizio non diceva mai Che ero in carrozzina e sui colleghi Ma perché solitamente E cos'è che mi ha detto? Non mi ricordo che No la vista in carrozzina mi ha fatto la battuta Ma l'hai picchiata Lei pensava fosse in carrozzina Perché tipo si fosse rotta una gamba E allora Giulia le dice No in realtà ho avuto un incidente in moto E questa qua tipo è spiancata È scappata da piangere È scappata da piangere Dicendo ma io non lo sapevo Ho fatto una battuta Che cattivo In realtà mi sono messa a ridere io No io no Cioè io mi ho fatto il culo a Andrea Perché ha detto ma come fai? Cioè stava lì Lavorare da lì per quanto tempo? Aveva due o tre anni Lavorata lì? No qualche mese No Andrea no Però scusate ragazzi Voi quando parlate O esce O esce il discorso Che è in carrozzina Del tipo Ma la tua ragazza Fa i gradini due per volta o tre per volta Allora le dice No la mia ragazza in carrozzina Non fa i gradini Altrimenti in un contesto normale Viene da dirlo Perché dici E lì ho scelto di mettermi sui social Ma no ma Perché dici solitamente Quanto anni ha Che il lavoro fa Non dici cammina o meno Sono domande che si fanno Ma io inizio questa cosa Io non la capivo Pensavo davvero che si vergognasse di me Era una roba che all'inizio Mi faceva molto arrabbiare Poi ho capito Ma tu diresti Guarda io sto con un ragazzo Che ne so Fa fisioterapista Usciamo da due o tre mesi È cinese È cinese È cinese in carrozzina Cioè solitamente Anche perché Vabbè Io non chiacchiero tantissimo Quindi rispondo alle domande Che mi fanno Nessuno mi ha mai chiesto Se camminavi o meno Non ero uscito No Andrea in generale Ha questa cosa Che ha sempre fatto Tipo Ci invitano a mangiare in un posto Lui non chiede mai Se è il posto accessibile O se è il bagno Ormai Non usciremo più No ok però Al bagno ci sta Cioè Se è accessibile Tanto quando viaggiamo Entriamo in un posto Se c'è i gradini Faccio i gradini Se non ce li hanno Non li faccio Dovrei chiederlo Ogni volta che chiamo a un posto No Mi sono tolto le palle Ah allora No vabbè ok Ma quindi Talla vita non hai cambiato niente Quindi E boh Quindi non ti preso niente A me quello che preoccupa È la vecchiaia La vecchiaia mi preoccupa Sì vabbè Ma la vecchiaia Di tante persone Comunque preoccupa Potenzialmente Da qua Fino a quando uno fa 70 anni 80 anni Tante persone comunque Hanno esperienze di disabilità Normalmente Ti viene un diabete importante Ti viene un ictus Ti viene Che ne so Un cancro da qualche parte Che ti fa avere una disabilità La eternità Di per sé preoccupa Quasi sempre Vabbè quindi Per te Vivere con una persona Con disabilità È Ok Nella nostra vita quotidiana Davvero Però Andrea È ok Ok È le relazioni Ragazzi È l'amore È l'amore Che fa la differenza Tante cose Tante cose le fai per amore Lo fai perché sarla Tu non fai infatti il letto Sempre Lo fai solo quando Mi incazzano Se me adesso è fatto Tu dici Andiamo a controllare Vediamo Ciao ragazzi Vediamo se l'ho fatto per amore Stamattina Direi che questo letto È fatto Al 95% Ok Ti amo al 95% Grazie Ciao Commentate qua Suate altre domande Così facciamo un altro video Mua